590 Nana carissima, ora ho cambiato qualità di lavoro e se andrà bene sono lieto perché è di mia soddisfazione e cioè nell'adoperare delle macchine a far buchi. La paga va bene, pericolo niente affatto, anche se si è sempre in mezzo all'acqua, ma fino ora sto benissimo, proprio bene. Se sapessi quanto sono desideroso di vederti e così pure la nostra piccola che ogni sera penso a voi per potervi rendere felice. Se la fortuna vorrà che avrò lavoro in quest'anno e la salute continua. In qualche luogo alla fine della stagione ti rivedrò. Penso ogni giorno a questo avvicinarsi e mi sembra che i giorni non passano perché il tempo mi sembra lungo. C'è W5, sì, questo è W5, questo è l'entranzo a W5. Quindi dovrebbe essere come numero 5, come crosscutta numero 5? Sì, allora i'm drinking.